Bentornati sul canale Io amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come Kate e William dal desiderio all'annuncio del quarto figlio. In Inghilterra sono tutti pronti a festeggiare, il principe si è lasciato sfuggire tutto Kate Middleton dolce attesa. L'amore tra Kate e William prosegue a gonfie vele e il desiderio di un quarto figlio aumenta sempre di più, e il principe si è lasciato sfuggire l'annuncio I due che si sono incontrati al tempo del college si sono innamorati e Kate sposando il principe, ereda al trono della corona inglese, è diventata una duchessa e la presto diventerà la regina quando il marito diventerà re I due che si sono sposati ormai dieci anni fa all'abbazia di Westminster sono oggi una famiglia con i loro tre bambini Un evento che bloccò l'intero regno unito Kate incantò tutti con il suo bellissimo abito di Alexander McQueen Un sogno che tutte le ragazze fin da bambine immagino e che per Kate Middleton è diventato realtà Dal sogno alla realtà, quarto figlio per Kate e William. Kate non ha mai nascosto il suo desiderio di volere un quarto figlio Per ora i duchi di Cambridge hanno tre figli, George, il primo genito e ereda al trono, nato nel 2013, Charlotte, secondo genita nata nel 2015 e Louis, l'ultimo nato nel 2018 Ad occuparsi di loro, Maria Teresa Turion Borrallo, che è con loro dalla nascita del primo genito L'ipotesi del quarto figlio circola da molto a Buckingham Palace e scatenare di nuovo i gossip è stata la visita ufficiale che i duchi di Cambridge hanno fatto in Scozia in una scuola elementare ST John Di Glasgow tenendo una lezione speciale. Hanno divertito tutti con i loro modi allegri e cordiali William e Kate con la loro famiglia. Kate appena ha visto un piccolo bimbo di soli 10 mesi, l'ha preso in braccio per coccolarlo e dargli tutte le sue attenzioni Ma William è apparso visibilmente preoccupato ed ha fatto subito una battuta, no per piacere, portate mia moglie fuori da qui altrimenti le torna il desiderio di maternità Così ridendo ha detto William.I più esperti dicono che la duchessa ha il desiderio di avere quattro figli, proprio come ha avuto la regina Elisabetta Kate Middleton aveva solo messo da parte questo desiderio dopo che la pandemia con il covid aveva colpito l'intero mondo, anche se dovrà convincere il marito che crede invece che si potrebbero fermare a tre Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video Ciao